Il sondaggio di Renato Mannheimer per la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica, andata in onda lunedì sera 24 febbraio, la maggioranza degli italiani, il 45% contro il 44%, dice che Matteo Salvini ha speculato sul coronavirus. Il sondaggio faceva riferimento alle ultime polemiche politiche tra il leader della Lega e la maggioranza giallorossa sul fenomeno del virus. Salvini aveva puntato il dito contro il premier Giuseppe Conte, il premier sorpreso per il numero dei contagi? Non è un passante ma il presidente del Consiglio. Lui è pagato risolvere i problemi, aveva detto Salvini ospite di Massimo Gilettia non è l'arena di domenica 23 febbraio. Il presidente del Consiglio, intervenuto a sua volta a che tempo che fa su Rai 2, aveva commentato le parole del segretario delle Lega bollandole come speculazione politica. Il presidente del Consiglio, intervenuto a sua volta a che tempo che fa su Rai 2, aveva detto Salvini, Il presidente del Consiglio, intervenuto a sua volta a che tempo che fa su Rai 2, aveva detto Salvini, Il presidente del Consiglio, intervenuto a sua volta a che tempo che fa su Rai 2, aveva detto Salvini, Il presidente del Consiglio, intervenuto a sua volta a che tempo che fa su Rai 2, aveva detto Salvini,